Io partirei, tu partiresti e li partirebbero, noi partiremmo, vi partiresti, si partirebbero. Se hai davvero voglia di partire alla grande ogni mattina, fino al 15 agosto i biscotti Gentilini ti fanno volare davvero. Con il grande concorso Gentilini ti fa volare, chi acquista una confezione di Oswego e Novellini da 500.000 grammi può vincere ogni giorno un volo andata e ritorno con la compagnia Wellinger Lights. Ed anche il bagaglio in stiva è compreso. Per info vai su gentilinitifavolare.it Io parto, tu partire, noi partire, partiamo, vi partire loro, partono!